il video lo faccio in due parti perché uno lo faccio in piedi e uno l'ho fatto ad assoluto perché accidentalmente ho stoppato il video perciò farò una parte 1 e una parte 2 ed eccoci, allora la mano lì non posso metterla perché copro la videocamera ed eccoci qua, ok, qua abbiamo il frontale con le sue belle ruote del nuovo pro crossfit 26 2.1, veloci rack, veloci rack, cestello, cestello che ci sta benissimo e anche la possibilità di prenderlo e portarlo via con la spesa dentro vediamo la particolarità di questi comandi freno che comunque vanno benissimo su questo drop anche se ha il flare perché sono raggiungibilissimi sia da sopra che da sotto luce, luce interessante, abbastanza potente vediamo lo stem della 1 e i vari particolari da bici, i parafanghi e tutto il resto, porta pacchi in particolare e luce in particolare 10 velocità 11 46, ok? 11 46 10 velocità fatemi sapere cosa ne pensate di questa bici questa è la seconda parte, adesso parto con un altro video in inglese e poi devo andare assolutamente perché ieri ho fatto un patatrack ho fatto un disastro, ero disperato, ho cominciato a bovere qua al ristorante dopo è venuto un mio bifragio e praticamente senza accorgermene ho mangiato un pacco intero di cracker, una confezione intera dolci che c'erano qua in giro e bibite, perciò male ci metto la faccia, l'ho fatto ok? ditemi cosa ne pensate delle nuove modifiche che farò intanto ci vediamo al prossimo video, ciao ciao mi raccomando, iscrivetevi